Si sta presentando l'emergenza acqua, state pensando insieme a Ruzzo di portare sul territorio delle autobotti? Per adesso non c'è un'emergenza acqua, c'è solo l'invia di previsione e prevenzione, il fatto di prevedere che per le frane e gli smottamenti ci potrebbero essere delle interruzioni del servizio idrico, per cui abbiamo chiesto a Ruzzo un piano in questo senso e fare la richiesta di una decina di autobotti che noi richiederemo a livello nazionale perché probabilmente qua sul territorio non ne abbiamo tante per la distribuzione dell'acqua, proprio per evitare che si crei un problema di emergenza. Quante sono ancora le utenze senza energia elettrica? Le utenze sono circa 3.000, quindi sono scese notevolmente da ieri e il rappresentante dell'Enel mi ha detto che entro oggi dovrebbero vedere di completare, io spero che sia così. L'emergenza lei diceva però non è finita, praticamente quasi tutte le frazioni, tutti i paesi sono stati liberati, c'è ancora il problema di San Giorgio, ma lì con il sindaco avete preso una decisione. Sì, in San Giorgio c'è una comunità di 70-80 persone dove arriva una strada che può essere soggetta a Slavini e a Valanghe e quindi le persone devono decidere se rimanere lì e essere poi ovviamente supportate o se invece essere evacuate da lì. E quindi il sindaco mi ha detto che andrà a parlare con quella comunità e mi terrà informata. L'altro problema che dovrete gestire è quello delle aziende agricole, ci sono circa 3.000 allevamenti, ci sono tante carcasse di animali che vanno anche smaltite? Ci sono tante carcasse di animali che vanno smaltite, domani c'è un incontro al Ministero della Salute, mi hanno detto con i rappresentanti delle regioni, ci daranno indicazioni di questo problema. Noi abbiamo informato anche la Dicomac perché è un problema che va attenzionato nel modo più assoluto, anche perché le ditte che poi smaltiscono un grande numero di carcasse sicuramente non stanno sul territorio provinciale e dovremo anche qui agire attraverso canali nazionali, quindi dovremo avere delle indicazioni in questo senso. Grande attenzione anche sul problema degli smottamenti delle frane e dei fiumi. Dei fiumi abbiamo fatto anche qui, però mi hanno detto, diciamo c'è il funzionario della regione che stava dicendo stamattina qua che per adesso il livello dei fiumi sia del Tordino che del Vomano non presenta assolutamente criticità, però mi stavano dicendo che oggi vanno a fare una ricognizione e poi vedono oggi pomeriggio qual è la situazione. Vediamo un po' quello che è il caso di fare, sia il caso anche di convocare i sindaci per attenzionare un attimo la loro sensibilità su questo aspetto, però vediamo un attimo, prima ci riserviamo di sapere qual è lo stato dell'arte. State agendo anche sul settore delle comunicazioni? Sì, perché noi abbiamo riportato, c'è stata la problematica risolta ieri del ripetitore a Monteggiovi di Cermignano con il ripristino delle comunicazioni e stiamo anche vedendo per sopra Fano Adriano c'è il Monte dell'Annunziata dove c'è un altro ripetitore che serve una grossa zona, anche lì abbiamo chiesto l'aiuto dell'ANAS per lasciare una turbina grande in modo che possano riaprire, la turbina adesso sta aprendo verso Tottea, appena finisce va lì, apre verso Monte dell'Annunziata e consente agli operatori, poi consentirà di rimettere in funzione anche quel ripetitore per la telefonia mobile della Vodafone.